Salve amici di Aesthetic Summer News, oggi la nuova puntata. Di cosa parliamo oggi? Ieri abbiamo parlato del seno, o meglio abbiamo parlato di quello che oggi possono fare le elaborazioni computerizzate per dare un'idea molto realistica di quello che potrebbe essere il risultato di un aumento, di un miglioramento, di un sollevamento o di una riduzione del seno. Oggi entriamo nello specifico di una delle tecniche più innovative nel campo della ritornificazione e nel campo del volume del seno che appunto è l'ipofilling, ovvero l'autotrapianto di tessuto adiposo. Questa tecnica è molto semplice ma nello stesso tempo molto interessante perché sfrutta proprio tessuto per andare a ridare volume al seno. Avete per esempio una zona del vostro corpo dove c'è un accumulo di tessuto adiposo, per esempio i fianchi, l'addome, le cosce. Bene, questo tessuto è prezioso, questo tessuto può essere estratto e durante lo stesso intervento riniettato nel seno per dare volume e tono appunto al seno. Oggi ci sono sistemi, detti sistemi chiusi, che permettono attraverso dei raccoglitori e dei filtri di eseguire questa liposcultura e quindi andare ad estrarre il tessuto adiposo, farlo passare all'interno di questi sistemi che filtrono automaticamente il tessuto adiposo, lo preparano e quindi può essere immediatamente reiniettato senza far uscire da un circuito chiuso assolutamente esterno il vostro tessuto adiposo. L'intervento è fattibile in anestesia locale, in regime di day hospital, quindi una persona entra in clinica ed esce senza dei fastidiosi anestetici accumuli laterali nel corpo e invece un seno più tonico e più voluminoso. Naturalmente bisogna dire che il tessuto adiposo nell'arco dell'anno va piano piano riassorbendosi, può esserci una permanenza dal 50 al 60, anche al 70%, però bisogna dire che una parte del tessuto che andiamo ad impiantare va a riassorbirsi nell'arco di un anno. È possibile ovviamente fare dei ritocchi negli anni successivi per mantenere il volume del proprio seno. Naturalmente se avete qualche domanda o qualche commento, mandatemelo e sarò molto felice di rispondervi. Come sempre concludiamo la puntata di Aesthetics Summer News con Slow Fit, questa nuova filosofia del fitness. Abbiamo parlato ultimamente del tempo, nella puntata successiva l'importanza del tempo. Bene, guardate la vostra giornata, quasi tutti hanno una mezz'oretta, tre quarti d'ora a dedicare a se stessi, ma se non le avete, abituatevi a puntare la vostra sveglia mezz'ora prima. All'inizio vi costerà un po' di fatica, ma dopo i vantaggi che avrete nel dedicare questa mezz'ora, 40 minuti a voi stessi, alla vostra forma fisica, vi ripagherà ampiamente del sacrificio di alzarsi una mezz'oretta prima. E questo vi permetterà in quella mezz'oretta, in quei tre quarti d'ora, di fare un'attività leggera, di respirare, di controllare il vostro respiro e di pensare. Ecco quindi che il terzo punto fondamentale di Slow Fit è, abbiamo detto, respirazione, tempo. E alla fine parleremo del pensiero, come respirazione e tempo favorisca il fatto di pensare a se stessi, pensare alle cose importanti e scaricare tensione, diminuendo il cortisolo e quindi diminuendo lo stress e quindi stando più in forma e anche perdendo peso. Ci vedremo alle prossime puntate. Ciao!